Capitolo 1 Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comandamento di Dio nostro Salvatore, e di Cristo Gesù nostra speranza, a Timoteo, mio vero figliuolo in fede, grazia, misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Signore. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia, di rimanere ad Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa né si occupino di favole e di genealogie senza fine, le quali producono questioni anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. Ma il fine di quest'incarico è l'amore procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da fede non finta, dali quali cose certuni avendo deviato si sono rivolti a un vano parlare, volendo essere dottori della legge quantunque non intendano quello che dicono né quello che danno per certo. Ora noi sappiamo che la legge è buona, se uno la usa legittimamente, riconoscendo che la legge è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui e i ribelli, per gli empi e i peccatori, per gli scellerati e gli irreligiosi, per i percuotitori di padre e madre, per gli omicidi, per i fornicatori, per i sodomiti, per i ladri di uomini, per i bugiardi, per gli spergiuri e per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina, secondo l'Evangelo della gloria del Beato e Dio che mi è stato affidato. Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù nostro Signore, dell'avermi egli reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima ero un bestemmiatore, un persegutore e un oltraggiatore. Ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità, e la grazia del Signore nostro è sovrabbondata con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Certa è questa parola, è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimostrasse in me, per il primo, tutta la sua longanimità, e io servissi di esempio a quelli che per l'avvenire crederebbero in Lui per avere la vita eterna. Ora, al re dei secoli, immortale, invisibile, solo Dio, sia onore e gloria nei secoli dei secoli. Amen. Io ti affido questo incarico, o figliolo mio Timoteo, in armonia con le profezie che sono state innanzi fatte a tuo riguardo, affinché tu guerreggi in virtù di esse la buona guerra, avendo fede e buona coscienza, della quale alcuni, avendo fatto getto, hanno naufragato quanto alla fede. Fra questi sono Imeneo ed Alessandro, i quali ho dati in mano di Satana, affinché imparino a non bestemmiare. Capitolo 2 Io esorto dunque, prima di ogni altra cosa, che si facciano supplicazioni, preghiere, intercessioni, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che sono in autorità, affinché possiamo menare una vita tranquilla e quieta, in ogni pietà e onestà. Questo è buono e accettevole nel cospetto di Dio nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Poiché vi è un solo Dio, ed anche un solo Mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso quale prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo, e per attestare il quale io fui costituito banditore ed apostolo, Io dico il vero, non mentisco, Dottore dei gentili, in fede e verità. Io voglio dunque che gli uomini facciano orazione in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e senza dispute. Similmente che le donne si adornino di abito convenevole, con verecondia e modestia, non di trecce e di oro o di perle o di vesti sontuose, ma di opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione, poiché non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito, ma stia in silenzio, perché Adamo fu formato il primo, e poi Eva, e Adamo non fu sedotto, ma la donna, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione, non di meno sarà salvata partorendo figliuoli, se persevererà nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Capitolo 3 Certa è questa parola, se uno aspira all'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio, assennato, costumato, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia, e tenga i figliuoli in sottomissione e in tutta riverenza, che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Che non sia novizio, affinché divenuto gonfio d'orgoglio, non cada nella condanna del diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada in vituperio e nel laccio del diavolo. Parimenti i diaconi debbono essere dignitosi, non doppi in parole, non proclivi a troppo vino, non avidi di illeciti guadagni, uomini che ritengano il mistero della fede in pura coscienza, e anche questi siano prima provati, poi assumano l'ufficio di diaconi se sono irreprensibili. Parimenti siano le donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figliuoli e le loro famiglie. Perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon grado e una grande franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Io ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, e semmai tardo affinché tu sappia come bisogna comportarsi nella casa di Dio, che è la chiesa dell'idio vivente, colonna e base della verità. E senza contraddizione, grande è il mistero della pietà. Colui che è stato manifestato in carne, è stato giustificato nello spirito, è apparso agli angeli, è stato predicato fra i gentili, è stato creduto nel mondo, è stato elevato in gloria. Capitolo 4 E nulla è da riprovare se usato con rendimento di grazie. Rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e della buona dottrina che hai seguita da presso. Ma schiva le favole profane ed avvecchie. Esercitati invece alla pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, mentre la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella a venire. Certa è questa parola, degna di essere pienamente accettata, poiché per questo noi fatichiamo e lottiamo, perché abbiamo posto la nostra speranza nell'iddio vivente, che è il salvatore di tutti gli uomini, principalmente dei credenti. Ordina queste cose e insegnale. Nessuno sprezzi la tua giovinezza, ma si di esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta, nell'amore, nella fede, nella castità. Attendi finché io torni alla lettura, all'esortazione, all'insegnamento. Non trascurare il dono che è in te, il quale ti fu dato per profezia, quando ti furono imposte le mani dal collegio degli anziani. Cura queste cose e datti ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Bada a te stesso e all'insegnamento, persevera in queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Capitolo 5 Non riprendere aspramente l'uomo anziano, ma esortalo come un padre. I giovani come fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle con ogni castità. Onora le vedove che sono veramente vedove, ma se una vedova ha dei figlioli o dei nipoti, imparino essi prima a mostrarsi pii verso la propria famiglia, e a rendere il contraccambio ai loro genitori, perché questo è accettevole nel cospetto di Dio. Ora la vedova che è veramente tale e sola al mondo, ha posto la sua speranza in Dio, e persevera in supplicazioni e preghiere notte e giorno, Ma quella che si dà ai piaceri, benché viva e morta. Anche queste cose ordina, onde siano irreprensibili, che se uno non provvede ai suoi e principalmente a quelli di casa sua, ha rinnegato la fede, ed è peggiore dell'incredulo. Sia la vedova iscritta nel catalogo, quando non abbia meno di sessanta anni, quando sia stata moglie di un solo marito, quando sia conosciuta per le sue buone opere, per avere allevato figlioli, esercitato l'ospitalità, lavato i piedi ai santi, soccorso gli afflitti, concorso ad ogni opera buona. Ma rifiuta le vedove più giovani, perché dopo avere lussureggiato contro Cristo, vogliono maritarsi, e sono colpevoli perché hanno rotta la prima fede. Ed oltre a ciò imparano anche ad essere oziose, andando attorno per le case, e non soltanto ad essere oziose, ma anche cianciatrici e curiose, parlando di cose delle quali non si deve parlare. Io voglio dunque che le vedove giovani si maritino, abbino figlioli, governino la casa, non diano agli avversari alcuna occasione di maldicenza, poiché già alcune si sono sviate per andare dietro a Satana. Se qualche credente ha delle vedove, le soccorra, e la Chiesa non ne sia gravata, onde possa soccorrere quelle che sono veramente vedove. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento, poiché la scrittura dice, Non mettere la museruola al bue che trebbia, e l'operaio è degno della sua mercede. Non ricevere accusa contro un anziano, se non sulla deposizione di due o tre testimoni. Quelli che peccano, riprendili in presenza di tutti, onde anche gli altri abbiano timore. Io ti scongiuro dinanzi a Dio, dinanzi a Cristo Gesù e agli angeli eletti, che tu osservi queste cose senza prevenzione, non facendo nulla con parzialità. Non imporre con precipitazione le mani ad alcuno, e non partecipare ai peccati altrui. Conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma prendi un poco di vino a motivo del tuo stomaco e delle tue frequenti infermità. I peccati di alcuni uomini sono manifesti, e vanno innanzi a loro al giudizio. Ad altri, invece, essi tengono dietro. Similmente anche le opere buone sono manifeste, e quelle che non lo sono non possono rimanere occulte. Capitolo 6 Tutti coloro che sono sotto il gioco della servitù, reputino i loro padroni come degni d'ogni onore, affinché in nome di Dio e la dottrina non vengano biasimati. E quelli che hanno padroni credenti, non li disprezzino perché sono fratelli, ma tanto più li servano perché quelli che ricevono il beneficio del loro servizio sono fedeli e diletti. Queste cose insegna e ad esse esorta. Se qualcuno insegna una dottrina diversa, e non si attiene alle sane parole del Signore nostro Gesù Cristo, e alla dottrina che è secondo pietà, esso è gonfio e non sa nulla. Ma allangue intorno a questioni e dispute di parole, dalle quali nascono invidia, contenzione, maldicenza, cattivi sospetti, acerbe discussioni di uomini corrotti, dimenti e privati della verità, i quali stimano la pietà essere fonte di guadagno. Ora, la pietà con animo contento del proprio Stato è un grande guadagno, poiché non abbiamo portato nulla nel mondo perché non ne possiamo neanche portare via nulla, ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazione, in laccio e in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione, poiché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia giustizia, pietà, fede, amore, costanza, dolcezza. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato e in vista della quale facesti quella bella confessione in presenza di molti testimoni. Nel cospetto di Dio che vivifica tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza dinanzi a Ponzio Pilato con quella bella confessione, Io ti ingiungo d'osservare il comandamento divino da uomo immacolato, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata dal Beato e unico Sovrano, il Redere e Signore dei Signori, il quale solo possiede l'immortalità e abita una luce inaccessibile, il quale nessun uomo ha veduto né può vedere, al quale siano onore e potenza eterna. Amen. A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina che non siano di animo altero, che non ripongano la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, il quale ci somministra copiosamente ogni cosa perché ne godiamo. Che facciano del bene, che siano ricchi in buone opere, pronti a dare, a fare parte dei loro averi, in modo da farsi un tesoro ben fondato per l'avvenire, al fine di conseguire la vera vita. O Timoteo, custodisci il deposito, schivando le profane vacuità di parole e le opposizioni di quella che falsamente si chiama scienza, della quale alcuni facendo professione si sono sviati dalla fede. La grazia sia con voi.